Senti, che diritto hai di fare quel che fai? Chi ti ha dato questa autorità? Voglio farvi anch'io una domanda. Chi ha mandato Giovanni a battezzare, Dio o gli uomini? Che dobbiamo dire? Se rispondiamo Dio, Lui dirà, perché allora non gli avete creduto? Ma se diciamo gli uomini, questa folla ci lapiderà, perché sono tutti convinti che Giovanni fosse un profeta. Noi non sappiamo chi l'ha mandato. E allora neanch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Grazie. Grazie. Grazie a tutti